buongiorno amiche buongiorno amici eccoci qui io reporter Marco Montemagno al vostro servizio come ogni sabato parliamo come sempre di informazione e tiene in banco ancora un paio di video amatoriali questa volta italiani le immagini amatoriali che vi proponiamo sono state girate dal nostro tre spettatori a Savignano sul Rubicone denunciano le pessime condizioni in cui versa il fiume a causa degli scarichi fognari e dei rifiuti lasciati lungo gli argini che lo rendono una vera e propria discarica a cielo aperto come documenta il video aggrovigliate tra la vegetazione ci sono bottiglie di plastica e rifiuti di ogni genere che minano l'equilibrio ambientale di quella che dovrebbe essere una riserva naturale protetta